Una gran bella giornata quella che stiamo vivendo quest'oggi. Sto celebrando i 50 anni della mia ordinazione sacerdotale. Il 4 di maggio del 1967, giorno dell'ascensione, a Fiesole, per mano di Monsignor Antonio Bagnoli, il Vesco di Fiesole, sono stato consagrato sacerdote. E quindi quest'oggi festeggio questo evento che ha cambiato la mia vita. Un evento che mi ha impegnato in questi 50 anni a vivere in un impegno di servizio alla Chiesa veramente notevole, con attenzione in modo particolare alle nuove generazioni, in maniera che non fossero vittime della nuova cultura di secolarizzazione, ma fossero veramente persone disponibili ad aprirsi a Dio e al prossimo mediante un impegno di testimonianza cristiana vissuta nel segno di una umanizzazione forte, di una capacità di comunione profonda verso i più deboli e di conseguenza essere un prete all'altezza dei tempi. Io sono felice e contento di questa giornata che celebro nella speranza che possa veramente continuare ad essere luce di verità e di amore mediante un impegno di servizio adeguato a tempi che cambiano.